Alvia Lex Start, la prima legge regionale dei giovani. Creare una vera e propria legge partendo da quelle che sono le tematiche che interessano i giovani. E' questo l'obiettivo di Lex Start, l'iniziativa promossa dal consigliere regionale Andrea Volpe, per avvicinare i giovani alle istituzioni, sviluppare il senso civico e favorire la partecipazione democratica. E' un modo per avvicinare i ragazzi all'interno della struttura, metterli anche alla prova, oltre che dare libero sfogo alla loro immaginazione, alle loro idee, ai loro pensieri, e anche un modo per misurarsi, perché mi piacerebbe anche a me legiferare ogni giorno per migliorare questa regione. A volte però bisogna fare i conti con i conti, con la parte economica, con le competenze che ci sono rispetto all'ordine amministrativo giuridico che c'è nel nostro paese. Quindi è un modo per avvicinare i ragazzi alle istituzioni. E così i ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa sono stati divisi in diversi gruppi di lavoro, turismo e cultura, trasporti, mobilità e opere pubbliche, agricoltura, ambiente e aree interne, politiche sociali e giovanili. Un vero e proprio giorno da consigliere per giovani tra i 18 e i 30 anni. Un modo per accorciare le distanze tra i ragazzi e la politica. Io ho annunciato questa iniziativa sui social e in pochissimi giorni abbiamo avuto l'adesione dei ragazzi. Questo per dire che non è vero che i ragazzi sono lontani dalla politica. Dobbiamo essere bravi anche a trovare il modo per farli avvicinare. Certo questa non è la risposta a tutti i problemi, però è un modo significativo per cercare davvero di accorciare le distanze, per dire ai ragazzi guardate che le istituzioni sono vicine. Se non partecipate ci sarà comunque sempre qualcuno che deciderà per voi. Partecipare vuol dire incidere.